Due giorni, quelli del 21 e 22 luglio, in cui la fortezza di Civitella farà da cornice al progetto Ceplin, dal muto al sonoro, utilizzando le performance dell'orchestra Città Aperta. Nel maggio del 2010 di quest'anno l'orchestra ha aperto a Civitella un'accademia per l'alta specializzazione per la musica da film. E ci aveva proposto, nel corso delle varie iniziative che vengono portate avanti, anche questo progetto. Le immagini del film di Ceplin, la febbre dell'oro, vengono trasmesse e contemporaneamente l'orchestra suona la colonna sonora. Fra qualche giorno poi l'orchestra andrà in sala di registrazione e registrerà proprio la colonna sonora. È un'iniziativa che noi riteniamo non soltanto di carattere culturale, ma che crediamo, i riscontri ci sono, ogni giorno li vediamo, possa portare a un rilancio del nostro territorio, a ridare il giusto merito e la giusta attenzione a Civitella. Un progetto, quello della proiezione del film, la febbre dell'oro, in cui sarà presentata in prima assoluta l'opportunità concessa al maestro Timothy Brock da parte della famiglia Ceplin, e cioè quella di poter vedere e studiare le partiture ai nastri originali, con la possibilità di farne un restauro delle colonde sonore e di eseguirle dal vivo durante la proiezione del film. Come è riuscito a convincere la famiglia Ceplin a farle vedere le partiture? È venuto molto tempo, ho la possibilità per un anno di vedere tutte le partiture del film che sono state fatte ai tempi della registrazione fatta da Ceplin stesso. Perché ora abbiamo la possibilità di utilizzare diverse tecnologie. C'è la possibilità, soprattutto con il DVD, di mettere la vecchia registrazione con la nuova registrazione. Ha la possibilità con questa nuova tecnologia di preservare il lavoro di Ceplin e di aggiungere la nuova registrazione. Il punto di vista è quello di creare un polo alternativo alla creazione delle colonne sonore a Sofia, a Praga e per certi versi a Londra. La fortezza è una cosa meravigliosa, ci siamo tutti innamorati del posto e pensiamo che sia anche acusticamente compatibile, perché è sempre difficile solo all'aperto, ma lì sembra che ci sia un'acustica adatta a fare il meglio.